sapete quanto costa questo nuovo microfono che ho preso per la chisciotte perché io ci tengo a voi a darvi un prodotto di qualità insomma io ci provo costa 222 euro su amazon 222 dobbiamo tutti rendere grazie adesso vediamo se funziona si spera dobbiamo tutti rendere grazie a milena milena morena farina mia mamma ha due nomi milena farina morena farina dobbiamo rendere grazie a lei che ha pagato questo microfono ora quelli che mi rompono le palle richie farina non lavora eccetera io sono un videomaker mettetevelo in testa film maker videomaker ok mettetevelo nella capoccia poi colpa mia se mio padre faceva l'ingegnere mi ha comprato casa eccetera sapete con quanto vivo sono da solo mi hanno comprato casa vivo con una buona cifra circa mille euro al mese che arrivano così sul mio conto in banca e tutto questo lo dobbiamo a mio padre che faceva l'ingegnere a mia madre tutto questo cosa la chisciotte la mia libertà no come impiego il mio tempo molti mi dicono riccardo non hai dignità sto cazzo che non ho dignità innanzitutto sono una persona gentilissima e uso il mio tempo dilatato per essere gentile con gli altri poi vi regalo perché è un regalo alcuni di voi si permettono anche di insultarmi alcuni non tutti per fortuna ci sono anche molti complimenti vi regalo film secondo me alcuni anche ben riusciti ben fatti e non c'è dignità in questo nel lavoro ben fatto nella mia sincerità nella mia passione nella mia bravura non c'è non c'è valore non c'è dignità ma scherziamo certo che c'è mi chiedevo quanti di voi vedrebbero i miei film se ci fosse da pagare tipo 2 3 euro a film quanti di voi e sono gratis sono gratis e quindi vi è andata bene però almeno non rompetemi le palle non ditemi ricchi sei una persona senza dignità senza sta minchia solo non riesco a concretizzare economicamente quello che faccio tutto qui in questo sono veramente una persona che non ce la fa appunto a realizzare qualcosa a trarne profitto a per il resto io lavoro scrivo ogni giorno faccio qualcosa adesso sono andati via 222 euro per questo microfono non sono miei soldi sono di mia madre ma come se fossero miei perché potevo farci altre cose con quei 222 euro no eh cavolo sono single e quindi mi nutro delle volte anche solo con dei sandwich scusate prova microfono faccio questo è rose beef e salsa di raffano a me piace molto lo so un giorno diventerò vegetariano ma non è ancora arrivato il momento sta diventando un video disgustoso me ne rendo conto era solo una prova microfono ciao 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 ciao